Buon pomeriggio a tutti, siamo qua oggi con il professor Fantacci che insegna storia economica e del pensiero economico all'Università Bocconi, è un esperto di moneta e del pensiero di Keynes. Siamo qua oggi per parlare, ringraziamo il professore innanzitutto. Grazie a voi, è un piacere essere qua. Vogliamo parlare oggi della politica economica ai tempi del coronavirus, ci sono tanti punti che vogliamo toccare ma il punto di partenza è effettivamente a che punto siamo oggi, alla luce di questa crisi a che punto siamo e quali sono le risposte di politica economica e soprattutto monetaria che sono state date fino adesso. Sì, cominciamo senz'altro da qua, oltretutto io mi scuso perché inizialmente questo incontro era stato programmato per una data diversa, però forse il fatto di averlo ci dà un'opportunità in più perché siamo in effetti a un punto di svolta, siamo all'inizio della detta fase 2 e quindi all'inizio di quella che dovrebbe essere la riapertura dopo oltre due mesi di confinamento e di chiusura e di serrata che abbiamo alle spalle. Quindi sono i primi passi che riusciamo a muovere in direzione di una nuova normalità. La strada è ancora lunga, questo continua a esserci ricordato da tutti, a cominciare dal governo e dagli osservatori e soprattutto io direi la parola che meglio descrive il momento in cui siamo oggi è incertezza. Quello che ci sta di fronte è uno scenario caratterizzato da un'enorme incertezza, innanzitutto perché come sappiamo è un evento senza precedenti con cui veramente navighiamo a vista, ma soprattutto in questo momento delicato in cui vorremmo ricominciare a guardare al futuro, questo futuro è difficilmente prevedibile, facciamo fatica a prendere le misure, do soltanto le dimensioni principali, insomma, anche soltanto dal punto di vista dell'andamento del contagio, gli esperti, gli scienziati che poi devono guidare i policy maker in questo momento non fanno altro che ripetere messaggi di cautela, non sappiamo quali potranno essere gli effetti della riapertura, ci sono modelli che cercano di simularlo e di prevederlo, però c'è molta cautela che inevitabilmente si riverbera anche sulle modalità e i tempi della riapertura. A questo io aggiungerei, per venire a un campo che mi compete più strettamente, c'è un'enorme incertezza riguardo a quello che potremmo chiamare il contagio economico. Noi sappiamo che la chiusura ha significato per una buona parte del sistema economico dei paesi colpiti una chiusura pressoché totale di moltissime attività. La cosa che non sappiamo è quali potranno essere le conseguenze di tutto questo e il modo in cui questa chiusura e questi mancati ricavi e le perdite che ne consegno si possono riposare su altre imprese attraverso le catene del valore del sistema economico. È fatto per esempio che la chiusura comporti dei rardi nei pagamenti, le imprese che non incassano non hanno soldi per pagare i propri fornitori e quindi a cascata i propri fornitori avranno dei marcati ricavi che potranno tradursi in ulteriori ritardi di pagamenti e quindi perciò parlavo di contagio economico si verifica quel fenomeno delle insolvenze a catena che in questo momento sono oltretutto mascherate dal fatto che ci sono delle moratorie come sappiamo sul pagamento delle tasse, sui mutui bancari e c'è una sospensione delle procedure concorsuali fino mi pare alla fine di giugno, quindi non sappiamo nemmeno misurare l'entità del danno, diciamo così. L'unica cosa che sappiamo e che alcuni osservatori appunto cercano di misurare è che ci saranno degli effetti persistenti, cioè a differenza di quanto poteva apparire inizialmente non è che finora abbiamo chiuso, ora riapriamo e torniamo al punto di partenza con una ripresa a forma di V come spesso amano dire gli economisti immaginando un ritorno rapido alla normalità, questo purtroppo non è possibile prevederlo perché ci saranno effetti persistenti soprattutto su alcuni settori, questo è evidente, i settori più colpiti dal confinamento, la ristorazione, la ricezione alberghiera, il turismo in generale, i trasporti aerei, in generale i trasporti pubblici e via discorrendo. E direi anche qua il dato principale è la diseguaglianza con cui questo colpisce il sistema economico, c'è una enorme disparità fra settori, ci sono settori chiusi e settori aperti, settori maggioranza, questo poi si ripercuote sul piano del mercato del lavoro, c'è una diseguaglianza dell'impatto della crisi fra categorie di lavoratori, anche perché a essere colpiti sono settori a più alta intensità di lavoro, tutti i settori che ho menzionato, penso che si sia sentito, sono settori che non sono certo capital intensive, l'accoglienza, la ristorazione eccetera. E questo evidentemente avrà delle ripercussioni diverse fra lavoratori regolari e irregolari, questo l'abbiamo visto, di fatto i lavoratori irregolari sono spariti perché non potevano circolare, non potevano rischiare di essere bloccati dalle forze dell'ordine e c'è una disparità meno marcata ma altrettanto significativa fra lavoratori dipendenti e lavoratori precari, che sono ancora più precari e fra i lavoratori invece che hanno un contratto stabile c'è una differenza fra quelli che possono svolgere il loro lavoro in modalità smart working e quelli a cui questa possibilità non è accordata e che quindi diciamo sono posti di fronte all'alternativa fra lavorare e correre dei rischi oppure non lavorare. E questo poi appunto si ripercuote anche sulle disuguaglianze fra le classi sociali, questa poi è l'altra cosa, si dice è una crisi simmetrica, ma insomma se poi andiamo a vedere gli stati al loro interno è una crisi fortemente dissimmetrica, pensiamo anche semplicemente al fatto che due grossi ascensori sociali come vengono chiamati sono sostanzialmente bloccati, uno è la scuola che è chiusa nel nostro paese poi rimarrà chiusa fino a settembre e questo sarà una fonte di enormi disparità perché i bambini delle classi più disagiate che non hanno accesso alla scuola hanno difficoltà ad avere accesso a un'istruzione che magari invece per gli altri bambini può essere assicurata in parte dai genitori del contesto familiare. Invece i bambini che non hanno una dotazione, pensiamo di strumenti che gli consentono di connettersi, rischiano di avere degli effetti ben più pesanti sulla loro carriera. L'altro ascensore sociale che è fermo sono le città, tipicamente le città agiscono da catalizzatore e da acceleratore per carriere di persone che sono alla ricerca delle possibilità di avanzamento sociale e anche qua finora siamo stati bloccati. Quindi dicevo ci stiamo avviando verso una normalità ma non sappiamo né quando questa nuova normalità potrà essere ripristinata né come sarà fatta la nuova normalità. Questo comincia a essere ampiamente discusso e c'è un certo consenso sul fatto che non usciremo da questa crisi dalla porta di dietro, cioè non torneremo da dove siamo partiti. Dove poi possa essere il punto di approdo è invece oggetto di ampie, non dico neanche discussioni perché non è stato neanche messo a tema ma sono sicuro che abbiamo tutti un'idea molto diversa di quale debba essere questo punto di approdo. La cosa è vistosa e qua ci avviciniamo appunto al secondo tema che tu hai evocato è che questo esito dipenderà in larga parte dalle risposte e in particolare dalle risposte delle politiche economiche perché in un clima di incertezza la conseguenza macroeconomica principale è che si bloccano gli investimenti. Nessun privato è disposto a mettere in campo un investimento in un contesto in cui non sappiamo dire nulla o quasi su cosa ci riserverà il futuro. Quindi bassissimi investimenti, altissima propensione al risparmio per lo stesso motivo perché cerchiamo di cautelarci contro spese future impreviste e questo chiaramente porta a una potenziale depressione e deflazione economica a cui si può rispondere soltanto con massicci investimenti pubblici e con in generale una spesa pubblica senza precedenti. Chiaramente le possibilità di spendere però non sono a proposito di asimmetrie uguali per i paesi anche soltanto pensando all'eurozona abbiamo visto che da un punto di vista di spesa pubblica nazionale per esempio abbiamo la Germania in testa però non tutti i paesi hanno la stessa capacità di spesa benché siano stati sospesi i vincoli formali spostando un attimo la scala della riflessione a livello europeo. Io adesso poi entriamo nel merito delle differenze però reagendo così a caldo la tua osservazione innanzitutto rileverei un fatto che invece ci accomuna in Europa e che non deve essere sottovalutato cioè che questa crisi ha portato ad un accantonamento non so se definitivo del principio che finora ha condotto le finanze pubbliche in Europa in particolare e cioè il principio dell'austerity. Noi siamo abituati e veniamo da un decennio in cui questa è stata la parola d'ordine, il rigore nelle politiche di bilancio. Ora di fronte alla crisi è risultato evidente che questo principio dovesse essere abbandonato sulla base di una previsione degli stessi trattati quindi non c'è stato neanche bisogno di sospenderli era previsto che in circostanze eccezionali questo criterio venisse messo da parte e quindi per tutti i paesi che sia l'Italia o che sia la Germania questa crisi ha voluto dire lasciamelo dire così la rivincita degli stati nazionali cioè sono tornati in primissimo piano gli stati e i governi con la loro capacità di spesa una spesa che è stata messa in campo largamente sulla base di una retorica di un discorso pubblico che faceva perno sulla metafora della guerra c'è una guerra da combattere e nelle guerre come si dice dalla prima guerra mondiale in poi Geld spielt keine Rolle il denaro non gioca alcun ruolo non deve costituire un vincolo perché c'è una guerra da combattere e la mobilitazione totale richiede anche una mobilitazione di una forza finanziaria e monetaria fatta questa precisazione che chiaramente cambia il tono anche al modo in cui l'Europa ha affrontato questa crisi rispetto alla crisi precedenti è chiaro che valgono le differenze su cui tu hai posto l'accento cioè la Germania continua a non essere l'Italia l'Italia continua a non essere la Germania e quindi se è pur vero che tutti rispondiamo alla crisi con i soldi chi più ne ha più ne mette e quindi l'Italia ce ne ha pochi a pochi margini di manovra e anche qua mi preme fare una precisazione subito l'Italia non ha pochi soldi per delle colpe recenti sottolineo questo perché spesso anche da parte di alcuni nostri compatrioti particolarmente zelanti si dice ah sì l'Italia si è comportata male in passato e quindi oggi non può spendere quanto la Germania perché c'ha questo fardello di debito pregresso sì ma questo fardello di debito pregresso l'Italia lo ha accumulato prima che venisse costituita l'Unione Monetaria Europea prima della costituzione dell'euro anzi da quando è stato costituito l'euro quindi da vent'anni a questa parte il comportamento delle finanze pubbliche italiane è stato particolarmente virtuoso e mi riferisco al fatto che l'avanzo primario dell'Italia è stato mediamente maggiore di qualunque altro paese europeo e soprattutto è stato un avanzo salvo un unico anno a differenza di altri paesi che hanno registrato dei disavanzi quindi i nostri problemi di finanze pubbliche vengono da lontano e quindi insomma stride il fatto che ci vengono rimproverati adesso da dei nostri soci che hanno deciso di associarsi a noi ben sapendo che noi ci portavamo dietro questo fardello di debito e decidendo deliberatamente di non tenerne conto cioè di fare un'eccezione quindi che ci venga rimproverato proprio adesso nel momento del bisogno è un aspetto particolarmente odioso della della situazione così come aggiungo per simmetria anche un altro un'altra osservazione è vero che quei soldi che il nostro governo è riuscito a mettere in campo fino ad oggi per rispondere alla crisi sono soldi che ci vengono dalle istituzioni europee questo non dobbiamo dimenticarcelo cioè se oggi il nostro governo può annunciare come ha fatto il ministro Gualtieri qualche giorno fa il programma di intervento più ampio che questo paese abbia conosciuto dal dopoguerra ad oggi questo è stato grazie al fatto che questi soldi non li avevamo li abbiamo presi a prestito e questi prestiti sono arrivati dalle istituzioni europee dalla commissione dalla banca europea degli investimenti e soprattutto dalla banca centrale europea che sta acquistando i nostri titoli del debito pubblico e quindi questo non dobbiamo dimenticarci dopodiché l'effetto di tutto questo siccome questi soldi non ci vengono regalati ma ci vengono dati in prestito sarà che entro la fine dell'anno come ci dicono le previsioni il nostro rapporto fra debito pubblico e PIL schizzerà sopra il 150% e quindi ci ritroveremo facilmente in una situazione difficile soprattutto se si volesse a quel punto tornare ad applicare i criteri dell'austerity e del fiscal compact che hanno caratterizzato la politica europea negli ultimi anni quindi la risposta comune diciamo l'attore principale è stata la banca centrale europea non c'è dubbio non c'è dubbio con diciamo quella come devo dire incespicamento iniziale da parte della neo insediata presidentessa della banca centrale europea la Christine Lagarde con l'infelice conferenza stampa in cui le scappò detto che non era la funzione della banca centrale europea quella di chiudere gli spread e provocò un aumento istantaneo degli spread come era ovvio aspettarsi recentemente proprio nei giorni scorsi il capo economista della banca centrale europea Philip Lane ha fatto una dichiarazione di senso diametralmente opposto cioè ha detto che la banca centrale europea ha assunto un nuovo compito oltre a quello di tenere sotto controllo l'inflazione e stabilizzare l'andamento dei prezzi c'è quello di tenere sotto controllo gli spread proprio perché l'aumento degli spread non pregiudichi i canali di trasmissione della politica monetaria attraverso l'unione e in ultima istanza la tenuta dell'unione stessa quindi la banca centrale europea ha dovuto fare marcia indietro o comunque chiarire ulteriormente la propria posizione e lo ha fatto mettendo sul piatto 750 miliardi di euro da qui alla fine dell'anno dichiarando che se ce ne vogliono di più ne metterà a disposizione ancora di più e in questo modo rassicurando fino ad oggi i mercati e riuscendo a contenere gli spread quindi direi senz'altro che la banca centrale europea sta svolgendo una funzione essenziale che però si sta muovendo anche ai margini dello statuto stesso della banca centrale europea perché questi interventi hanno voluto dire che la banca centrale europea non soltanto acquista i titoli di stato dei paesi membri ma li acquista senza più alcun riguardo al mantenimento di una proporzione fra i titoli che acquista di ciascun paese e le dimensioni di quel paese quindi ha acquistato una quantità sproporzionatamente grande di titoli di stato italiano proprio per cercare di mantenere sotto controllo i tassi di interesse sul debito pubblico italiano nelle ultime settimane di fatto certo perché appunto ci sono i cosiddetti capital key esatto mi riferivo proprio a questi non so mai quanto posso utilizzare termini tecnici in queste chiacchierate ma se tu mi rassicuri sulla preparazione del nostro pubblico io lo faccio e se da un punto di vista invece possiamo dire appunto sempre parlando a livello di risposte comuni si è parlato tanto in questo periodo anche di appunto ci sono state messe varie possibilità sul piatto si è parlato di Eurobond si è parlato appunto dell'intervento della Banca Centrale Europea non soltanto a sostegno del 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 di titoli italiani del tesoro ma anche a livello di monetizzazione del debito quindi si parlerebbe di un qualcosa di ancora più aggressivo rispetto a quanto fatto finora dalla Banca Centrale Europea e che però comunque è in linea con quello che è stato fatto finora più o meno dagli altri paesi importanti come gli Stati Uniti di Inghilterra ma sì senz'altro io diciamo la vedo così per essere un po' tranchant visto che vorrei come d'accordo chiudere questa parte no entro una decina di minuti mi dicevi così poi apriamo anche a eventuali domande dal pubblico però per essere tranchant e schietto io direi se non si mette in campo qualche misura più ambiziosa l'Unione Monetaria Europea è a rischio per misure più ambiziose intendo esattamente quello che tu hai evocato ora con monetizzazione che in parte la Banca Centrale Europea sta già facendo però potrebbe fare in misura più ampia se ci fosse anche l'emissione di un debito comune europeo non lo vogliamo chiamare Eurobond perché se no a una parte dell'opinione pubblica tedesca viene l'orticaria non lo chiamiamo Eurobond però si tratta di fatto di indebitarsi non come singoli paesi europei proprio per non essere soggetti a la divergenza dei tassi di interesse che avviene a causa dei movimenti speculativi sui mercati finanziari e quindi bisogna potersi presentare sul mercato finanziario come un solo soggetto è chiaro che la soluzione ideale sarebbe avere un tesoro europeo quindi un ministro delle finanze europeo e quindi una federazione compiuta con l'unione politica evocata da tempo e mai raggiunta perché questo consentirebbe all'Europa di essere una controparte credibile innanzitutto per gli Stati Uniti ma lo evocavi anche per l'Inghilterra cioè per tutte quelle aree valutarie in cui c'è un'unica banca centrale e un unico governo noi abbiamo un'unica banca centrale e una pluralità di governi che fino a questo momento hanno resistito alla cessione di budget alla cessione di sovranità e a qualunque forma di mutualizzazione anzi vorrei dire più precisamente che avendo deciso di tenersi assieme soprattutto attraverso un'integrazione dei mercati finanziari l'Europa oggi ha dato luogo a una forma di mutualizzazione a rovescio dove sono i paesi della periferia a finanziare i paesi del centro che se ne dica spesso proprio attraverso il meccanismo degli spread perché se l'Italia si indebita a un tasso di interesse sistematicamente più alto del governo tedesco questo significa che c'è stato di fatto un trasferimento costante di risorse che è stato anche quantificato e quindi si tratterebbe non tanto di introdurre una mutualizzazione fra i paesi europei ma di cambiare forma della mutualizzazione cioè una mutualizzazione che porta i soldi dalla periferia al centro e bisogna ripareggiare un po' questa tendenza il mio collega Massimo Amato con altri colleghi ha formulato l'ipotesi di creare una debt agency europea quindi una forma di tesoro sintetico in mancanza di un tesoro reale che consenta attraverso opportune garanzie ai paesi europei di emettere un debito comune ma questo già di per sé avviene sia pure su scala ridotta attraverso la banca europea degli investimenti che come vediamo appunto sta alla base di quel massiccio programma di finanziamento delle piccole e medie imprese in Europa che è stato varato dall'Eurogruppo settimana scorsa così come alla base del fondo per la cassa integrazione europea il fondo SURE e anche lì ci sono alla base delle emissioni di debito europeo quindi si tratta di generalizzare un principio che su scala ridotta è già in atto a diversi livelli quindi l'obiettivo sarebbe diciamo ridurre questo momento di volatilità raccogliere fondi sulla base del rischio fondamentale dei paesi non sì questo è precisamente il senso dell'ipotesi avanzata da Amato e colleghi i quali propongono possiamo dirla così in estrema sintesi che sia costituita un'agenzia del debito europea che si presenta al mercato e quindi si finanzia emettendo titoli europei che vengono remunerati perché ciascun paese membro paga un tasso di interesse corrispondente al suo rischio fondamentale e quindi si deve immaginare che se adottiamo questo criterio che è un criterio diciamo giustificato dai fondamentali economici e dalla buona teoria economica avremmo certamente paesi come l'Italia che hanno un rating triple A B pagare dei tassi di interessi più elevati della Germania che ha un rating triple A ma eviteremmo al tempo stesso appunto la impennata dei tassi di interessi italiani ad ogni perdita di fiducia e a ogni crisi di liquidità e avremo al tempo stesso eviteremo un altro problema che è quello dei tassi di interessi negativi sul debito tedesco che sono un problema se l'unico safe asset in Europa è un asset che ha rendimenti negativi questo è un problema enorme per il sistema bancario e assicurativo europeo perché non si sa dove mettere i soldi con bassi rendimenti ma positivi e bassi rischi come è richiesto ad ogni sana istituzione finanziaria quindi questa sarebbe una soluzione cooperativa che porterebbe benefici ad entrambi parlando di Italia e Germania ad entrambi i paesi e in generale a tutti i paesi dell'Eurozona e dell'Europa l'ultimo punto che mi piaceva di cui mi piaceva parlare era legato diciamo all'obiettivo era diciamo allargare ulteriormente lo sguardo adesso a parlare un pochino del sistema economico e finanziario internazionale perché quello che è successo da un punto di vista finanziario è per quantità un inedito nel senso che c'è stata la più grande fuga di capitali dai paesi emergenti mai registrata si parla di circa 100 miliardi di dollari e quasi credo 90 paesi hanno fatto richiesta al fondo monetario per avere accesso alle linee di credito e quindi si è ricominciato a parlare della riforma del sistema finanziario internazionale si è iniziata a parlare di diritti speciali di prelievo voi ci avete lavorato tanto mi piace sentire un po' la sua opinione sì volentieri questa è una questione cruciale che sta tornando giustamente alla ribalta come hai appena detto ed è la questione di un sistema monetario internazionale che si fonda su una egemonia monetaria di un paese cioè noi abbiamo una moneta internazionale che coincide con una moneta nazionale che è il dollaro ancora oggi il dollaro continua a essere utilizzato in maniera preponderante come strumento di riserva dalle principali banche centrali di tutto il mondo e come strumento di regolamento sui principali mercati reali e finanziari questo con quello che è stato giustamente chiamato un privilegio esorbitante a favore degli Stati Uniti i quali si trovano a svolgere la funzione di banchiere centrale per il mondo intero e in un momento come questo come stiamo scoprendo le banche centrali hanno letteralmente il potere di vita o di morte su le diverse componenti del sistema economico in un momento in cui tutti rischiano di fallire che si tratti di governi imprese famiglie e l'unica salvezza sembra essere come abbiamo detto finora quella di mettere a disposizione tutto il denaro che serve whatever it takes per cercare di mantenere artificialmente in vita come se ci fosse anche qua mi perdonerai la metafora però c'è esigenza anche in ambito economico di respiratori per dare respiro commerciale alle imprese per dare respiro finanziario a tutti i soggetti economici e questo respiro arriva dalle banche centrali ora se a livello globale la banca la funzione di banca centrale è esercitata dagli Stati Uniti questo significa che gli Stati Uniti hanno letteralmente potere di vita o di morte su quei 90 paesi che hai evocato prima che oggi si trovano in disperato bisogno di ossigeno cioè di liquidità questa liquidità arriva dalla banca centrale americana la Fed attraverso delle swap lines che fino a questo momento sono state concesse a beneficio di poche banche centrali in prima battuta soltanto a quelle che vengono chiamate le C6 cioè oltre alla Fed la banca centrale del Canada del Regno Unito la banca centrale europea quella svizzera e quella giapponese poi con una successiva manovra sono state estese ad altre banche dalla Danimarca a Singapore però rimangono fuori la stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo che letteralmente dipendono da questa fornitura di dollari per rifinanziarsi in un momento in cui oltretutto i mercati delle materie prime lo vediamo hanno i prezzi a terra e questo spesso per questi paesi diciamo mina alla radice la loro principale fonte di reddito per finanziare le importazioni di beni essenziali a cominciare dalle forniture sanitarie quindi siamo in una situazione drammatica che mette a nudo tutta la uscenità diciamo così di un sistema monetario internazionale che affida l'esercizio di un compito così importante a un unico paese sempre più rilottante a svolgerlo oltretutto e quindi sarebbe giunta finalmente l'ora di creare una moneta internazionale distinta da qualunque moneta nazionale da cui appunto l'importanza potenziale di quella moneta internazionale che già esiste da ormai 50 anni a questa parte e che viene emessa dal fondo monetario internazionale e che si chiama diritti speciali di prelievo perché appunto questo avrebbe il vantaggio enorme di consentire una creazione di liquidità a livello internazionale di metterla a disposizione di tutti i paesi secondo delle proporzioni più eque imparziali di quelle che derivano dalle sue pop lines americane gestite in maniera unilaterale e arbitraria certo ci sarebbe bisogno che la funzione dei diritti speciali di prelievo venisse innanzitutto riconosciuta e che di conseguenza la loro quantità venisse aumentata enormemente un primo aumento ci fu in conseguenza della crisi finanziaria globale del 2007 e 2008 che portò a decuplicare la montare di diritti speciali di prelievo disponibili ma ora si tratterebbe di decuplicare un'altra volta si parla secondo alcune proposte di 3-4 mila miliardi di euro in diritti speciali di prelievo che dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le banche centrali del mondo pro quota dal Fondo Monetario Internazionale per far fronte all'emergenza e questo mi sembrerebbe diciamo un'operazione auspicabile per cominciare a favorire una riforma del sistema monetario internazionale e un'uscita dall'egemonia del dollaro senza che questo comporti l'ingresso in un'altra egemonia che non sarà certo dell'euro in questo momento per i motivi che abbiamo discorso prima ma che credo che sia auspicabile non essere nemmeno una egemonia del doyuan cinese quindi questo certamente penso che sia un tema di riflessione che è bene avviare e che potrebbe contribuire a rendere l'uscita da questa crisi diversa e migliore da il mondo che in questa crisi ci ha portato ecco certo ma anche perché questa cosa è molto importante secondo me da un punto di vista strategico per gli Stati Uniti che di fatto sono diventati sempre più riluttanti ad avere il ruolo di banchiere centrale del mondo ma anche perché internamente alla luce del deficit commerciale che si è sviluppato proprio anche per questa disponibilità questa domanda estera di dollari è nata effettivamente all'interno degli Stati Uniti un certo a livello proprio industriale una richiesta che poi è risultata nella guerra commerciale per esempio con la Cina quindi si parla di possibili vantaggi reciproci sì non c'è dubbio anche questo hai fatto benissimo a evocarlo quello che io prima ho definito un privilegio esorbitante citando una vecchia formula di Giscard d'Estegna in realtà è un'arma a doppio taglio nel senso che da un lato certamente produce per gli Stati Uniti l'enorme beneficio di poter stampare moneta per essere un po' brutali per qualunque scopo lo ritengono opportuno cioè per finanziare in particolare il loro deficit persistente di bilancia commerciale la spesa militare e gli investimenti esteri i programmi di aiuto e via discorrendo però è un'arma a doppio taglio perché ne consegue anche il fatto che gli Stati Uniti sono oggi il principale debitore internazionale cioè il paese con il debito estero più grande al mondo e quindi in una posizione di precarietà soprattutto nei confronti dei propri paesi creditori segnatamente la Cina e quindi soggetti a un potenziale ricatto di cui il presidente Trump è molto consapevole e su cui Trump ha costruito prima la sua campagna elettorale e poi la sua presidenza quindi in effetti la guerra commerciale che tu hai evocato risponde proprio all'intento di ripristinare una competitività perduta degli Stati Uniti perché al fondo ci si rende conto che lasciami dire così la potenza monetaria e finanziaria senza la potenza industriale non è nulla alla fine è semplicemente una capacità straordinaria di indebitarsi di indurre il resto del mondo ad accettare i propri debiti come moneta corrente ma è una posizione di estrema fragilità perché significa non avere un apparato produttivo industriale capace di sostenere alla fine anche una capacità una potenza militare infatti non a caso anche le tensioni commerciali con la Cina sono emerse quando la Cina non soltanto esportava ma ha cominciato a esportare beni ad alta tecnologia e segnatamente la tecnologia delle telecomunicazioni 5G su cui poi si è innestata la crisi diplomatica fra Stati Uniti e Cina prima dello scoppio della crisi sanitaria benissimo perfetto abbiamo toccato tutti i punti direi che volevamo toccare vediamo un attimo se c'è qualche domanda allora dovrei poterle vedere anch'io le domande no sì live comments comments c'è questo qui di prima vediamo se arriva qualcosa comunque nel frattempo magari pensavo Jacopo mentre aspettiamo le domande c'è un punto che mi sta a cuore e che non abbiamo toccato proprio in vista diciamo di un'uscita da questa crisi verso un mondo migliore diciamo così fino a questo momento tutte le cose che abbiamo detto vanno nella direzione di rispondere alla crisi con iniezioni di denaro no come se il denaro veramente potesse comprare tutto come se fosse davvero soltanto questione di quantità dicevamo prima delle difficoltà dell'Europa rispetto agli Stati Uniti perché l'Europa c'hanno le mani legate dalla mancanza di un safe asset europeo dicevamo del fondo monetario che non è in grado di iniettare quantità sufficienti e quindi viviamo in qualche modo di un complesso di inferiorità e di invidia nei confronti degli Stati Uniti che invece questa potenza ce l'hanno così come in misura minore ce l'hanno altri paesi che godono di sovranità monetaria ora è chiaro che il fatto di avere scoperto di potere per usare una brutta immagine e neanche troppo accurata azionare le presse cioè aumentare l'offerta di denaro attraverso un'espansione della politica monetaria attraverso una crescita dei bilanci delle banche centrali per affrontare la pandemia è stata una bella scoperta nel senso che d'ora in poi e anche questo si comincia a discutere sarà difficile dire non ci sono soldi per affrontare altre battaglie infatti appunto si comincia a dire soprattutto da parte diciamo di osservatori economisti di orientamento progressista dice vabbè adesso che abbiamo scoperto che i soldi non sono un problema bisognerà che ci siano sufficienti soldi finita questa crisi sanitaria per affrontare altre crisi per esempio per soddisfare la spesa pubblica e la fornitura di beni pubblici non soltanto nella forma di un sistema sanitario ma anche nella forma di un sistema di istruzione pubblica e più in generale per esempio per la lotta alla povertà per la lotta alle disuguaglianze e il grande tema prima del coronavirus la lotta al cambiamento climatico come possiamo dire non ci sono abbastanza soldi sono forse battaglie meno degne di quella contro il virus certamente no quindi da un lato c'è questa enorme opportunità che si spalanca perché abbiamo scoperto che i soldi in fondo non sono un problema al tempo stesso c'è un enorme rischio e il rischio è da un lato quello e questo lo dico perché c'è secondo me una certa miopia ormai tutti sono tifosi dell'intervento pubblico e ci dimentichiamo che c'erano dei buoni motivi per cui l'intervento pubblico era stato ridotto in passato ora lungi da me appunto non riconoscere che si è esagerato nel tagliare molti servizi pubblici essenziali però certamente quando lo Stato appunto invoca la guerra come giustificazione per un intervento dobbiamo tutti essere consapevoli a cominciare da chi al governo ci sta che è un'operazione estremamente pericolosa perché l'intervento del governo oggi è stato forse ancora più pervasivo che durante le passate guerre c'è imposto delle restrizioni alla libertà senza precedenti che abbiamo accettato volentieri perché era in gioco la salute pubblica e che però sono giustificate da questo e devono rientrare una volta che la crisi è finita perché vogliamo lasciare nella vita economica spazio sufficiente all'intrapresa privata e al libero mercato io questo almeno credo che la capacità di innovazione il dinamismo dei sistemi economici sia garantito dall'impresa privata una volta che il pubblico ha pensato a grandi questioni strategiche che hanno a che fare con la fornitura di beni pubblici e anche con alcuni ambiti in cui l'investimento privato non può arrivare però c'è questo rischio di un intervento eccessivo dello Stato e poi c'è il rischio di inflazione su questo chiudo sai che è un tema che mi sta a cuore però l'idea di risolvere tutti i problemi buttandoci sopra dei soldi è diciamo a lungo andare un'illusione perché l'unica cosa che risolve il problema economico è la capacità di produrre e di produrre dei beni che soddisfino dei bisogni o dei desideri e quindi certo è indispensabile che in questo momento le banche centrali intervengano che rifinanzino le imprese attraverso i governi che rifinanzino le famiglie attraverso forme di sussidi e via discorrendo però dobbiamo sapere bene che se i redditi vengono mantenuti a livello invariato e invece la produzione cala i prezzi non possono che aumentare perché saremo tutti con redditi invariati a cercare di comprare dei beni estremamente scarsi sul mercato e per quanto questo possa essere paradossale in un momento in cui c'è ancora deflazione i prezzi diminuiscono lo dicevo prima in particolare quelli delle materie prime del petrolio non è lontano a me sembra il rischio che invece i prezzi ricominciano a salire e giustamente tu stamattina mi segnalavi che nell'ultimo bollettino Eurostat si registra certamente un tasso di inflazione complessivo sotto il target del 2% ben al di sotto ma invece per i beni essenziali in particolare per il cibo si registrano già delle spinte inflative ma non potrebbe essere diversamente perché se la produzione agricola noi sappiamo che in alcuni settori si è fermata il raccolto dei pomodori non si fa perché appunto si avvaleva per lo più di manodopera in nero e quindi è inevitabile che i prezzi salgano e questo a me sembra che sia un rischio concreto nonostante viviamo da 50 anni in un mondo in cui l'inflazione è scomparsa però non dobbiamo farci illusioni cioè questa è una situazione diversa da tutte le precedenti e per diversi motivi perché le banche centrali i soldi li stanno mettendo direttamente in mano a famiglie e imprese e questo nel 2007 2008 non è avvenuto perché i soldi sono andati sui mercati finanziari perché non c'è più l'austerity e quindi c'è un'espansione monetaria e insieme un'espansione fiscale perché nel frattempo si contrae l'offerta e perché ultimo elemento si sta contraendo il mondo cioè c'è un'inversione di quel processo di globalizzazione a cui abbiamo assistito fino all'altro ieri sia per le guerre commerciali ma soprattutto per il lockdown per la chiusura delle frontiere per la fine dei voli aerei che sono appunto ridotti di oltre il 95% e via discorrendo in un mondo così certamente le spinte inflative ci sono potenzialmente quindi abbiamo bisogno in sintesi abbiamo capito che per semplificare la moneta cioè creare moneta magari non è un problema però poi abbiamo il problema di farla farla circolare quindi di occuparci del secondo aspetto sì cioè che creare moneta è indispensabile è necessario ma non è sufficiente che questa moneta deve poter circolare e deve poter sparire a vantaggio della creazione di beni e servizi perché la moneta lasciami dire così è una promessa poi questa promessa deve essere mantenuta e l'unico modo di mantenerla è attraverso un'attività produttiva reale esatto bene ah qualcosa è arrivata secondo lei riesce a leggerle qui? sì io leggo ecco non riuscivo a capire da che parte cominciavano allora comincio da quella di Andrea Barchi mi sono collegato tardi se ne avete già parlato mi scuso cosa ne pensa dell'MBT e della monetizzazione del debito ecco non avevo visto la domanda però la risposta che ti do è in linea con le osservazioni che facevo finora certamente l'MBT ha il merito di avere prima in tempi non sospetti sollevato una questione che oggi sembra di dominio comune cioè che in linea di principio non ci devono essere restrizioni alla capacità di una banca centrale di creare tutto il denaro che serve che serve per fare che cosa in particolare l'MBT dice per creare occupazione e oltretutto assegna questo compito non tanto alla banca centrale quanto a una concertazione fra la banca centrale e il governo che è in quel caso dell'MBT visto come employer of last resort quindi come il datore di lavoro di ultima istanza che mi sembra appunto un'intuizione interessante che non fa fino in fondo i conti con i rischi che ho evocato prima cioè di inflazione perché non basta dire l'economia non opera a livello di pieno potenziale ci sono ancora dei disoccupati e quindi fin tanto che il denaro lo stampo per pagare lo stipendio questi disoccupati non creano inflazione non è detto dipende questi disoccupati a loro volta che cosa fanno perché se creano dei beni e servizi di cui tutto questo reddito esprime una domanda allora va bene se invece creano dei beni e dei servizi per i quali non c'è domanda e quelli invece per cui c'è domanda a questo punto rischiano di essere in difetto di offerta a questo punto si possono creare delle spinte inflative quindi diciamo la cosa che deve essere tenuta d'occhio è sempre l'equilibrio fra la quantità di denaro che viene messa in circolazione e la disponibilità di beni e servizi sul mercato laddove vengono richiesti per questo mi sembra difficile anche realizzarlo a livello aggregato e questo forse si lega alla domanda successiva perché non si può utilizzare il sistema dell'elicopter money e quale sarebbe la soluzione economica ottimale in presenza di pandemia ma ci siamo molto vicini al sistema dell'elicopter money nel senso che il sistema dell'elicopter money che cosa prevede prevede direi due differenze rispetto alle politiche monetarie espansive che sono state adottate in occasione di crisi precedenti in particolare del 2007 2008 la prima differenza è a chi dà i soldi come dicevo prima nel 2007 2008 attraverso le varie ondate di conto dei divising la politica monetaria ha creato denaro immettendolo sui mercati finanziari e nel sistema bancario l'elicopter money invece dice no i soldi vanno dati alle imprese e alle famiglie quindi diciamo all'economia reale di questa differenza è che nella forma più estrema l'elicopter money significa che questi soldi non li dai in prestito come normalmente fanno le banche centrali ma li regali il che però ha delle implicazioni sul bilancio della banca centrale mentre quando la banca centrale presta dei soldi o li utilizza questi soldi per comprare dei titoli la banca centrale ha un bilancio in pareggio cioè ha tante attività quanto passività le passività delle banche centrali essendo la quantità di moneta e le attività essendo ciò che garantisce questa quantità di moneta che non è più la riserva aurea ma è oro se la banca centrale compra oro titoli di stato se compra titoli di stato crediti alle banche se fa credito alle banche e altri titoli se decide come è successo in tempi recenti di acquistare anche altri titoli però c'è un attivo che garantisce il valore del circolante lo garantisce di nuovo rispetto a il rischio di inflazione perché che cosa succede nell'ipotesi di un helicoptero mani estremo in cui la banca centrale stampa monete e la regala poniamo attraverso il governo ospicabilmente perché stiamo parlando di politiche fiscali a questo punto di sostegno del rendito in cui c'è una dimensione politica e quindi non dovrebbe essere la banca centrale a decidere a chi dà i soldi la banca centrale dovrebbe darli al governo il governo decide a chi darli però a questo punto la banca centrale ha soltanto delle passività non ha più nulla all'attivo e questo non è un problema nel senso che possiamo anche dire la banca centrale non fallisce per definizione però è un problema perché se si dovessero manifestare delle spinte inflative la banca centrale non ha più nessuno strumento per ritirare dalla circolazione questo denaro tipicamente la banca centrale ritira dalla circolazione il denaro vendendo titoli se non ha nulla da vendere come fa a ridurre la quantità di moneta quindi a me sembra che il problema delle elicoptermani nella sua forma radicale sia questo per essere un po' schematici Francesco no Ludovico prima secondo lei è possibile che questa crisi possa spingere verso una più forte integrazione politica europea ovvero che alle opinioni pubbliche del nord possa andare bene una condivisione dei debiti molti osservatori non sembrano crederci allora di primo acchietto anch'io ti avrei detto che non ci credevo nel senso che insomma se non siamo riusciti a metterci assieme in periodi più tranquilli in effetti riuscirci in un momento così concitato in cui inevitabilmente come vediamo riemergono degli egoismi nazionali mi sembra per certi versi più difficile però qualche segnale incoraggianti devo dire in questo senso lo si è visto in Germania si è visto in particolare una parte della stampa cito per esempio un recente editoriale dello Spiegel un altro su Die Zeit in cui si mettevano in evidenza i pericoli e gli svantaggi per la Germania nel astenersi da un atteggiamento solidaristico nei confronti del sud Europa si diceva che era scorretto si diceva che bisognava aiutare l'Italia di fronte a una crisi per la quale non aveva nessuna colpa e lo si diceva io ritengo non soltanto perché ci si è messi la mano sulla coscienza ma anche perché c'è un concreto interesse lo evocavo prima in Germania che spinge fortemente nella direzione di una integrazione compiuta di una mutualizzazione dei debiti e di di una emissione di titoli comuni ed è l'interesse del sistema finanziario che non è del tutto trascurabile quindi io credo che qualche speranza ci sia che finora si è cercato semplicemente di comprare tempo con il pacchetto di misure varate dall'Eurogruppo e questo tempo deve servire per fare il programma di ripartenza europeo lo European Relief Program e Fund e soprattutto per fare dei passi più decisi verso una qualche forma di strumento di debito comune di safe asset europeo Francesco domanda il rischio di inflazione ci potrebbe essere solo distruggendo il tessuto produttivo distributivo e creando di conseguenza struttatura dal lato dell'offerta ma inflazione e non iperinflazione e sai lì il passo è breve purtroppo questo la storia ci insegna perché se si blocca la produzione e si sta bloccando la produzione cioè noi stiamo parlando di sistemi economici che ad oggi in particolare fino al 4 di maggio sono stati bloccati ora bisogna vedere quanto riusciamo a farli ripartire se la ripartenza è sufficientemente veloce e non comporta delle ripercussioni sul piano sanitario sono il primo a dire che il rischio di inflazione non c'è e anzi semmai ci sarà l'esigenza di convincere le persone a spendere per ritornare nei negozi questo peraltro non è banale perché leggevo ci sono degli studi che confrontano l'andamento dell'economia in Danimarchia e in Svezia un paese con lockdown e un paese in cui come sapete invece il lockdown è stato molto più blando e i comportamenti dei consumatori hanno comportato una contrazione della domanda aggregata paragonabile nei due paesi quindi non è soltanto una questione di misure pubbliche di confinamento però se si riesce a ripartire direi che inflazione certamente non è un rischio se invece questa ripartenza è rallentata e parziale e soffre di un'interruzione appunto delle catene del valore per cui nel frattempo dobbiamo rilocalizzare gran parte della produzione di beni che improvvisamente ci accorgiamo sono essenziali che potrebbe voler dire anche beni della filiera alimentare via discorrendo allora io credo che il rischio di inflattivo ci sia e se questi blocchi sono dissimmetrici nel senso che un paese rimane più bloccato di altri allora c'è anche il rischio che l'inflazione si trasformi in iperinflazione perché adesso giusto per citare l'ultimo caso di iperinflazione quella tedesca dei primi anni 20 cosa avvenne? avvenne qualcosa di molto simile cioè la Germania che doveva pagare le riparazioni stabilite col trattato di Versailles non riuscendo a pagarle venne espropriata della RUR che venne occupata dall'esercito francese e con l'occupazione della RUR venne di fatto perso il 30% del PIL tedesco a cui il governo tedesco della Repubblica di Weimar cercò di ovviare stampando moneta e reintegrando i redditi delle famiglie e delle imprese con dei sussidi ma siccome la capacità produttiva si era ridotta del 30% è chiaro che tutta questa potere d'acquisto si riversava all'estero provocando un depreciamento del tasso di cambio e fu il depreciamento del cambio del marco a innescare la spirale inflattiva quindi se altri paesi partono per dirla banalmente e invece il nostro rimane fermo allora c'è il rischio forte che questa inflazione si verifichi e che sia anche fuori controllo dove per noi intendo Italia ma anche Europa se nel frattempo ripartono per motivi diversi gli Stati Uniti e l'Asia in questo senso nell'evitare appunto colli di bottiglie e restrizioni nell'offerta da parte della produzione privata in assenza di aspettative di profitto breve e medio termine specie in beni essenziali una produzione pianificazione pubblica non potrebbe essere appunto necessaria e o auspicabile sì lo ritengo anch'io anche se anche il pubblico fa i conti con l'esigenza di preservare le condizioni di sicurezza sul posto del lavoro quindi se il problema è sanitario nella misura in cui il problema è sanitario non lo si risolve diciamo assegnando l'organizzazione dell'attività produttiva al pubblico anziché al privato e in più col pubblico lo dicevo ci sono rischi di inefficienze che ci siamo dimenticati e che invece dobbiamo ricordarci il fatto stesso che lo Stato oggi dia prestiti e garanzie sui prestiti alle imprese e appunto blocchi le procedure concorsuali è rischioso perché impedisce di discriminare i buoni dai cattivi chi fa bene l'impresa e chi non la fa certo in un momento come questo sono il primo a dire bisogna salvare tutti senza guardare in faccia nessuno però un domani dovremo tornare a distinguere perché se no per quanto indispensabile e necessario questo intervento pubblico diretto o indiretto poi rischia di produrre qualche danno persistente Filippo per impedire l'inflazione non si può vincolare il denaro dato ad un paese per una destinazione che non crei spinte inflative certo si può fare in una certa misura lo si sta anche già facendo però questo significa spesso ulteriormente rafforzare l'intervento pubblico in economia cioè non soltanto è lo Stato che ti dà i soldi ma è lo Stato anche che ti dice come spenderli allora questo dipende come lo fai allora questo diciamo indurrebbe ad aprire tutto un altro capitolo che qua non possiamo aprire Jacopo perché il tempo a nostra disposizione sta finendo che è quello delle monete complementari e dei droni al posto degli elicotteri per usare una metafora che abbiamo usato recentemente cioè lo Stato ti dà dei soldi e non ti dice come spenderli cioè non è che ti dà dei buoni pasto da spendere in quel posto lì però ti dice che li devi spendere in un circuito ristretto di imprese che a loro volta vengono identificate come meritevoli di tutela perché rappresentano per esempio il tessuto produttivo occupazionale di conoscenze e un patrimonio che deve essere preservato allora questo sì con un sistema di monete locale di sistemi di compensazione a livello locale questo si può fare e ci stiamo ragionando e volentieri magari organizziamo un'altra chiacchierata per parlare di questo sullo scadere delle 18 c'è un'ultima domanda ma adesso chiudiamo perché se no tornando alla questione dei bilanci delle banche centrali se queste lavorano insieme al governo nel caso ci fosse una necessità di ritirare moneta per riportare il bilancio dell'ABC verso il pareggio evitando inflazione non potrebbe essere fatto dal governo con le tasse invece che dell'ABC che vende i titoli tenuti in garanzia dall'espansione monetaria sì può essere fatto dal governo con le tasse questo è vero questo può essere fatto sia a livello nazionale sia a livello locale però anche qua implica un grado di fiducia nei governi che non nutriamo più da tempo cioè noi negli anni 70 ci eravamo inventati il divorzio fra governo e banca centrale perché ritenevamo che associare il governo troppo strettamente alla politica monetaria avrebbe voluto dire diciamo creare la tentazione per i governi di appunto creare troppa moneta e distruggerne poco perché ovviamente è più facile per un governo spendere che tassare quindi anche lì sì diciamo come opzione teorica c'è bisogna vedere quanto questa opzione teorica sia percorribile perché qual è quel governo che diciamo ha la forza anche politica di imporre delle tasse soltanto perché c'è da ridurre la quantità di moneta in circolazione e in che modo poi comunque in linea teorica sì va bene però direi che abbiamo dato sì per oggi se no poi a proposito di inflazione qua c'è un'inflazione di parole che rischia di grazie a voi mi ha fatto piacere buona serata alla prossima e buone riflessioni a tutti volentieri arrivederci grazie a tutti Grazie.